Da domani giovedì 2 giugno fino al 4 settembre torna la pedonalizzazione di Viale Trieste, torna per il terzo anno consecutivo e oggi mercoledì 1 giugno ci sono gli ultimi ritocchi per quello che riguarda questo cambio della viabilità del transito su questa zona. Due isole pedonali realizzate tra Viale Zara e Vialinchi e tra Viale Marconi e Viale Pola con qualche novità. È stato rifatto completamente l'asfalto in questa zona, è stato ridipinto d'arancione nelle zone in cui andranno anche allargati i tavoli dei locali e dei ristoranti presenti in questa zona. Si stanno preparando gli arredi, arredi green e white, il verde delle piante che il centro operativo del comune sta allestendo, il bianco degli arredi tra panchine e altri addobbi previsti e poi anche la novità di alcuni gazebi rivestiti con i materiali di sdraio da amare appunto per completare il tutto. Un tema è quello della pedonalizzazione di Viale Trieste che abbiamo affrontato raccogliendo anche i pareri degli esercenti di alcuni locali presenti in questa zona. Ma secondo me l'idea della zona pedonale comunque ci sta in una città di mare, è giusto che comunque il lungomare venga sfruttato e utilizzato anche in via pedonale. Noi consideriamo che soprattutto nella fascia oraria di urna non sia assolutamente necessario e come noi penso la maggior parte dei commercianti e delle attività di questa zona perché di fatto rendono impossibile, è molto difficile avvicinare clienti durante la fascia oraria di urna. Poi per la sera potremmo, sì è un'altra cosa, però ecco sarebbe secondo noi intelligente modificarla. Naturalmente creare isole pedonali in Viale Trieste limita il transito delle auto e anche le aree di sosta, motivo per cui è quasi pronto il nuovo parcheggio di Villa Marina. Riqualificato, vedete alle mie spalle gli ultimi ritocchi alla segnaletica orizzontale per i circa 165 posti auto che saranno usufruibili tra qualche giorno in questa area. È stata anche realizzata un'area apposita dedicata al parcheggio di scooter e motorini ed è stato anche completato nei giorni scorsi un murale, un mural vernacolon in idioma pesarese per addobbare il tutto.